Oggi i pasticciotti disegneranno insieme a voi cetriolini. Piccless, detto anche cetriolini, è uno dei tanti fantasmi che impestano niuboli. Lavorava in un circo facendo il clown. Poi qualcuno lo convince che era possibile volare tenendo alcuni sottacciti tra le mani. Chiaramente non fu così e cetriolini fece proprio una brutta fine. Ora è tornato al circo sotto forma di fantasma. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.